Ho scelto di specializzarmi in questa scuola perché desideravo una formazione completa, dinamica, sia nella sua parte più teorica che nella parte un po' più pratica. Nella parte teorica ne siamo coinvolti nel primo anno in una visione più generale, quindi per quanto riguarda l'epatologia e la gastroenterologia generale. Via via siamo coinvolti nei settori più specifici, quindi ad esempio le malattie infiammatorie croniche intestinali, le patologie dell'epatologia da un punto di vista ambulatoriale e ancora il settore biliopancreatico. Dal punto di vista pratico siamo coinvolti in epatologia già a partire dal primo anno nel settore che riguarda le paracentesi, le biopsie epatiche e i drenaggi. Per quanto riguarda invece l'endoscopia, innanzitutto nella parte diagnostica e successivamente soprattutto nel quarto anno nella parte operativa. La mia giornata tipo in humanità si inizia presto. È variabile a seconda della turnazione in cui mi trovo. Per quanto riguarda i primi anni, tendenzialmente si svolge all'interno dei reparti, quindi inizia la mattina con il girovisite e con la successiva discussione dei casi clinici con lo strutturato e gli altri colleghi. Andando avanti con il percorso, si affrontano giornate più di tipo ambulatoriale, quindi si vedono molti più pazienti in una giornata e spesso con prima visita o a controllo. Gli ultimi anni della scuola sono prevalentemente incentrati sulla pratica dell'endoscopia digestiva, pertanto la giornata, anche lì dipende dalla sala, si inizia con la revisione dei casi clinici del paziente, dopodiché si pratica tutta la giornata. Le opportunità sono soprattutto di confronto. Abbiamo dei professori che hanno tantissima esperienza, quindi anche semplicemente averli come tutor per noi è davvero molto importante, però non si limita solo ai professori della nostra scuola. Abbiamo infatti la possibilità di venirli in contatto con esperti internazionali, sia del nostro settore che di altri settori. Li possiamo incontrare qui nella nostra scuola quando vengono per le nostre lezioni oppure ancora durante i convegni, in questo perché abbiamo la possibilità, a seconda del nostro settore di interesse, di poter avere accesso anche a diversi convegni, sia nazionali che internazionali. Assolutamente, e infatti la scuola ai noi ragazzi del quarto anno dà la possibilità di fare un periodo all'estero fuori che possa essere di sei mesi fino anche a dodici mesi. Io ad esempio, e poi molto probabilmente mi sto organizzando per partire il prossimo febbraio per andare in Spagna in un centro eccellente per quanto riguarda l'endoscopia biliare, che è l'argomento di maggior interesse per la mia specialità. Per quanto riguarda appunto il discorso dell'estero, è un percorso che viene deciso con il medico tutor, che ti dà la possibilità di andare a frequentare nei centri di maggior interesse, sia personale che a livello europeo e a volte anche mondiale. Vorrei lavorare in un centro che se non di pari livello sia comunque confrontabile, questo perché dopo un po' di anni ci si abitua comunque a degli standard di qualità alti, quindi vorrei lavorare in un posto che mi permetta ancora di applicare, diciamo, le cose che so secondo quelle che sono le linee guida, quindi sia nella parte un pochino più teorica ma vorrei anche perseguire ancora la parte endoscopica.